E ora come di consueto diamo uno sguardo al bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 22.875 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 6.026 casi positivi. Sono stati accertati 20 decessi. I casi attualmente positivi sono 75.123, 544 sono le persone ricoverate in area non critica e 31 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 7.745 le persone decedute in Puglia.